Baldo Pantani, poveri ma ricchi, che fai? Faccio il maggiordomo ma non sono l'assassino e questa è una novità anche di sceneggiatura Poi mi sono molto divertito, attori bravissimi Prignano, De Sica Sì, 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 c'è il regista qui a fianco Baldo Pantani, un trasformista Ma come l'hai scelto? L'ho scelto per errore perché quando è arrivato con la sua vera faccia non l'avevo riconosciuto Ho detto ma questa faccia usi per il film? Ma lui ha detto sì, questa c'ho, mi hanno dato questa e ho detto vabbè usiamo questa Tempi perfetti, Fausto Brizzi, rimanete con noi dopo la pubblicità Parliamo ancora del film ma non c'è tempo Mi sono divertito comunque, spero che vi divertiate anche voi Grazie, ti rivediamo in tv Quelli che il calcio è già domenica, facce diverse, un sacco di roba Ciao, grazie